Buongiorno a tutti. La pubblica amministrazione, in particolare il pubblico impiego, è al centro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'utilizzo dei fondi del Recovery Fund e lo strumento del concorso sarà il volano per lo sviluppo maggiore della pubblica amministrazione. Abbiamo un'anteprima con il Decreto Legge numero 44 con cui sono state introdotte delle misure volte a favorire, accelerare, sbloccare lo svolgimento dei concorsi pubblici rimasti al palo a causa della pandemia. In particolare con il Decreto Legge 44 il Governo ha previsto delle misure di stimolo di accelerazione dei concorsi pubblici sia parte legate all'attuale fase di emergenza, sia misure che comunque sono destinate ad entrare in regime e costituire l'ordinarietà nei concorsi pubblici. In particolare è incentivato l'utilizzo agli strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle procedure concorsuali, è incrementata la possibilità di utilizzare la selezione per titoli per il passaggio da una fase all'altra della procedura concorsuale ed in particolare per quanto riguarda le procedure già bandite alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 44 è prevista la Facoltà per le amministrazioni di inserire anche laddove non prevista dal bando una selezione per titoli e prevedere eventualmente anche la riapertura dei termini per incrementare le domande di partecipazione al concorso. Questi sono degli strumenti di carattere generale previsti per tutta la pubblica amministrazione ma che sicuramente avranno influenza anche nei concorsi della scuola. Sappiamo infatti che il concorso straordinario andrà a completarsi non appena il Ministero dell'Istruzione fisserà le date per lo svolgimento delle prove suppletive, mentre i concorsi ordinari a cattedre sono ancora bloccati e probabilmente proprio in virtù dell'impulso del Decreto Legge 44 avranno una ripresa anche tenendo conto che a partire dal 3 maggio, proprio secondo le previsioni del Decreto 44, non sarà più previsto il limite di 30 candidati per ciascuna sessione d'esame. Quindi i concorsi ordinari a cattedre potrebbero avere un impulso e un'accelerazione e vedremo nei prossimi giorni quale saranno le notizie in merito da parte del Ministero dell'Istruzione. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.